Ed è arrivato quel momento, questa è la volta di Ethereum ragazzi, questa è la volta di Ethereum che festeggia l'approvazione del suo ETF con la secca che approva gli ETF su Ethereum che inizieranno, entreranno in negoziazione da giugno del 2024. Benvenuto Ethereum e benvenuta alla regina delle cripto in attesa, assolutamente questa notizia che però poi negli ultimi due giorni dal 20 maggio in poi era diventata in pratica quasi certa dopo che c'erano stati influssi di natura politica notevole sulla secca e che hanno in pratica forzato la mano in maniera enorme a tal proposito appunto proprio per far approvare l'ETF spot di Ethereum. Allora ragazzi, intanto ecco la moneta di Ethereum che si aggiunge a quella di Bitcoin, ce lo dà qualche anno ragazzi, non è la giovane però allora aveva ragione la moneta perché la moneta aveva detto l'approvazione ETF sì, quindi lancio della moneta randomico ci aveva dato notizia. Allora, un sacco di cose sono successe nella giornata di ieri, niente da un punto di vista invece delle oscillazioni di pricing, se non che c'è una cosa che è importantissima ad andare a valutare, che si è andata a verificare e dobbiamo prenderne atto. È ancora solo un giorno e poco però andiamo a vedere oggi dei grafici, andiamo a vedere tutte le news che sono state le più importanti di ieri, ho già qui quella relativa appunto all'approvazione pubblicata sul blog tradingon.it. Ragazzi, ci sono anche tante con l'approvazione di quello che è successo e poi una notizia, diciamo un ciao, un addio che dobbiamo dare a una delle più grandi mascotte più belle del mondo delle crypto. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, in un video storico e in un momento storico dove anche la regina delle crypto proda, nelle mani della finanza istituzionale, nelle mani dell'alta finanza, cambiano le regole del gioco. Quattro anni fa, chi c'era se lo ricorda, eravamo dei folli, quattro anni fa additati come scammer, quattro anni fa che cosa stavamo facendo, tutto era truffa, tutto, ogni cosa non funzionava e poi alla fine ci hanno dato ragione. Sono dovuti arrivare loro a prendere parte a questo gioco con estremo ritardo, sicuramente cambieranno le regole del gioco, però la soddisfazione nel dire, ve l'avevamo detto noi questa volta, ce la possiamo prendere. E con l'aggiunta di Ethereum al panorama degli ETF c'è da fare una riflessione. Intanto il povero Michael Saylor, ragazzi, che fine fa il povero Michael Saylor? Perché Ethereum non è una security adesso, beh sì, è una commodity. Perché con l'approvazione in pratica si stabilisce che Ethereum non è una security e quindi non lo sono neanche tutte le altre. Vi ricordate la storia su Solana che era una security, bla 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 e tutto il resto? Forse poi era anche vero questa idea di Gessler, no? Che però adesso, diciamo, c'è una forzatura palese. Ma io vorrei sapere che cosa sta pensando Michael Saylor in questo momento dopo aver fatto massicce pubblicità sulla questione che Bitcoin era l'unico così, che è anche vero, è l'unico assolutamente diverso dagli altri. Però in questo caso, diciamo, non l'ha pensata proprio come lui. Vabbè, allora, povero Michael, tra virgolette, perché non gliene frega più di tanto visto tutti i soldi che ha. Però a prescindere, diciamo, sicuramente dovrà rivedere le sue idee. Allora ragazzi, intanto, come vi stavo dicendo prima, facciamo un saluto all'icona più bella e più animalesca e più simpatica del mondo delle cripto perché lo shibaino Kabosu muore a 17 anni, durato un botto ragazzi, per un cane ovviamente tanto, però si è spento oggi. Gli facciamo un ciao ciao e resta in peace il cane di Dodge ragazzi. Bellissima questa immagine, tra le altre cose, creata con tutti i supereroi che gli danno un grande saluto. Ha, diciamo, colorato il nostro mondo cripto e quindi lo salutiamo anche noi perché è un'immagine che abbiamo solo in questo mondo di pazzi, di folli, di dead gen, ragazzi. Shiba Inu Kabosu è stata un'immagine che è, diciamo, anticipatoria di tutte queste questioni delle meme coin eccetera. Comunque ha fatto una bella vita, di 17 anni non è, non è poco per un cane, quindi ciao ciao, Kabosu, allora era molto bella questa cosa, volevo dirvela ragazzi. Allora, intanto, Ethereum non è una security perché nella giornata di ieri, verso la fine, intorno alla mezzanotte in pratica, quasi alla chiusura del giorno di ieri, orario italiano, è arrivata l'approvazione della SEC per quanto riguarda l'ETF di Ethereum. Ma ancora però non ci sono le quotazioni, tant'è vero che bisogna attendere una serie di settimane finché venga approvato un altro modello, se non sbaglio, si chiama l'S1, che va a dare l'ok per la quotazione dei ETF, quindi in pratica in questo momento non si muove praticamente nulla. Però la domanda è, vi ricordate pre-fase di approvazione dell'ETF di Bitcoin che comunque il flusso relativo a Bitcoin era arrivato? Ed era arrivato notevolmente ma non è stata la stessa cosa per quanto riguarda Ethereum, che nelle settimane scorse in realtà ha avuto un flusso negativo, quindi dei trend negativi anche abbastanza durevoli, non impattanti così tanto sul prezzo, però comunque era molto debole, quasi due mesi di debolezza e poi questo pump on the news in pratica di una decina di giorni neanche, insomma una settimana, che ha dato il via a questa nuova era. Sicuramente qui ci sarà da riflettere in qualche modo, adesso andremo a fare un po' di analisi, però è significativa anche considerare questa differenza importante che c'è stata fra Ethereum e Bitcoin, perché comunque Bitcoin aveva reagito molto meglio nei pensi precedenti rispetto a Ethereum su questa questione. È probabile che la questione di Ethereum abbia un po' spiazzato tantissimi investitori che non si aspettavano questa cosa, ma è anche evidente come la mano politica ha messo la mano, diciamo, in questo contesto. Ed è anche molto importante perché bisogna considerare che a questo punto è legito dire che nell'economia americana, nella finanza americana, nelle poltrone che contano della politica, le cripto fanno tendenza, cioè le cripto sono diventate un modo di fare un qualche punto percentuale in più in termini di elezione, di elettorato, eccetera. C'è sicuramente un potere dietro importante che comunque protegge, porta avanti il mondo delle criptovalute, e questa cosa è evidente, altrimenti gli squaloni di Wall Street non sarebbero entrati a mani basse su questo mercato. Qualcuno dirà sono entrati per distruggerlo, questo ce lo dirà solo il futuro, sicuramente cambieranno delle regole, cambieranno tante cose, però per il mondo delle cripto un ETF su ETH è molto importante. Quali sono le considerazioni anche da fare? Le stesse che abbiamo fatto su Bitcoin, finora sono andate bene, però le rifacciamo anche in questo video. Quindi ETH non è una security, quindi non lo sono neanche le altre. Prossima ad entrare sarà quindi un'altra criptovaluta, probabilmente non si sa se Solana è la più gettonata in questo contesto. Tra le altre cose volevo anche farvi vedere quello che è per esempio l'andamento di Solana contro ETH, perché teoricamente, l'avevo anche spiegato nella live dell'altra volta, potrebbe essere diciamo un grafico interessante vedere la forza relativa proprio di Solana contro ETH. Che è quello qui il grafico ragazzi, che in realtà guardate un po' quello che ha fatto. Solana che insomma cresce rispetto ad ETH dal tutto il 2023, si è fatta quindi un anno intero di rialzo rispetto ad ETH e anche qualche altro mese. Qui ha fatto questo triplo massimo e dopodiché è diventata negativa. Solana sta diciamo strutturando questa fase, non è ancora per un'inversione di trend. Questo è importante da dire perché ancora non è detta l'ultima parola, perché questo è a livello di configurazione classica un triangolone che in realtà è una figura di continuazione del trend. Cioè in pratica qui basta che Solana vada a fare questo break e significa ancora forza relativa. È possibile che quindi Solana in effetti possa essere la prossima e quindi probabilmente il mercato andrà ad assistere a vedere cosa succederà su ETH per poi spostarsi secondo me anche su Solana. Quindi insomma se dovesse esserci un'altra ETF probabilmente Solana è la più gettonata. Il prezzo di ETH potrebbe salire del 60% dopo l'approvazione degli ETF spot. Questa era un'analisi di QCP Capital che parlava appunto di questa possibilità. Però un confronto lo possiamo fare perché possiamo fare il confronto con quello che è successo a Bitcoin proprio nel post approvazione. Adesso lo andiamo a fare, facciamo una serie di rappronti. E qui insomma potremmo avere anche delle idee generali. Questo articolo comunque è molto interessante ragazzi, sempre riportiamo nel nostro blog. Andatelo a vedere in home page. E poi altro articolo importante che abbiamo pubblicato, ovviamente c'è stato un insieme di articoli enormi tutti su Ethereum oggi. Ethereum scende però del 4% dopo l'estorica approvazione degli ETF. Quindi la prima reazione è stata negativa. Tant'è vero che ha avuto un po' di fluttuazione, devo essere sincero, mettiamo un time frame un po' più breve. E dopodiché un leggero sello news che qui insomma si vede in queste grafico sta scendendo un giorno e mezzo, circa due giorni, sta ritracciando. Ovviamente non sono grandi movimenti questi. Secondo me più che altro non ha fatto nulla. Cioè si è fermato in zona 3007 e si è andato ad accomodare. È chiaro che questa candelona gigantesca chiama vendetta, cioè chiama un rientro quantomeno in zona 3.400 presalita. Secondo me un rientro in questa zona è troppo facile per i trader, troppo semplice che io credo che o il trend di Ethereum non tornerà lì e continuerà a salire e basta o se ci torna per andare più giù intorno ai 3.000 a questo punto perché 3.400 è veramente una chiamata troppo semplice, troppo facile. Insomma se fanno una cosa del genere ringraziamo chiaramente, però diventa veramente un bancomat. Secondo me è troppo semplice. Andiamo a vedere la questione invece che è stata secondo me più incisiva nella giornata di ieri, che è il calo di Bitcoin perché quello che abbiamo visto, che secondo me non è da, non è anomalo, sono un calo di Bitcoin, un calo di Bitcoin negli ultimi 3 giorni, anche abbastanza importante perché abbiamo fatto meno 1.70, meno 1.40, meno 1.70, quindi in toto comunque Bitcoin ha avuto una discesina che non è cosa da niente ragazzi. Guardate qui è sceso quasi del 7% fino al lasciato. A proposito ragazzi di operazioni di trading volevo dire che ho registrato una squadra italiana per quanto riguarda il contest di BitGet ragazzi che parte tra poco e la squadra è Crypto Maverick. Allora stiamo iniziando a iscriverci un po' a tutti quanti i membri, parteciperemo un po' a questo contest per divertirci e poi per fare qualcosa insieme. Tra le altre cose sono anche intenzionato a fare diciamo una serie di strategie anche per vedere cosa ne uscirà, condividendoli in Academy, ma le pubblicherò anche sul canale Telegram, iscrivetevi gratuitamente anche se facciamo qualcosa, poi vediamo ecco come prende la questione, vediamo appunto se si può stare tutti insieme. Allora vi lascio il link, è tutto gratis ovviamente ragazzi. se volete partecipare a questa squadra italiana Crypto Maverick e vi lascio appunto il link per registrarvi con tutto quello che dovete fare insomma con la guida, basta cliccare, inserire la password e fare join e team. È interessante ragazzi, lo facciamo insieme ma vi ripeto è per stare insieme tutti quanti. Allora, per quanto riguarda la questione del discorso di Bitcoin, questa fase ribastista è stata importante, non rilevante ma importante perché ha anche spinto Bitcoin intanto di nuovo sul livello di supporto iniziale che sono i 68 mila dollari, addirittura l'ha fatto flash crashare diciamo così intorno ai 67 mila. C'è una fase di chiusura ciclica in atto in questo momento che è la fase della chiusura del ciclo mensile di Bitcoin, pertanto questa fase ribastista potrebbe anche perdurare nei prossimi giorni. Io ho un'idea generale, se dovesse chiudere questa fase secondo me già da oggi, insomma dopo la pubblicazione di questo video, tra poco nelle ore successive inizierà a essere di nuovo debole e probabilmente domani avremo un'ulteriore discesa. Se invece resisterà nella giornata di oggi, sto registrando venerdì 24 maggio, se resisterà per la giornata di domani avrà più possibilità di cercare un recupero secondo me della zona dei massimi. In ogni caso siamo in fase di chiusura del ciclo mensile di Bitcoin e andrà valutato, anche perché la stessa cosa riguarderebbe anche ETH, perché ETH è in una fase un po' particolare. Intanto è vero che nonostante l'approvazione non è che si sia mosso in maniera così imponente. Allora qui ci sono due strutture cicliche, una che inizia qua con la close che è intorno ai 10 giorni, però l'altra con la shadow è prima, perché qui il minimo è stato fatto in questa zona, anche se secondo me non è il vero minimo, e chiamerebbe anche lui una chiusura ciclica mensile come quella di Bitcoin. Quindi qui bisognerebbe un po' andare a vedere questa cosa, se fa una roba del genere ci può stare. Andiamo a vedere anche un altro grafico importante, il rapporto di cambio tra Ethereum e Bitcoin, il pampone gigantesco di Ethereum nei confronti di Bitcoin, che però, guardate un po', si sta riassorbendo, come nei precedenti cicli. Ancora una volta, come vi dicevo nella live dell'altro giorno, questa struttura non è un'inversione di lungo-medio periodo, è un'inversione di brevissimo che potrebbe essere ritracciata nell'arco di pochissimo tempo, tant'è vero che solo a livello annuale c'è stata una mini-inversione, perché siamo saliti al di sopra di questo livello, ma praticamente ha dato vita a un mini-trend, quindi a livello giornaliero, scusate, non annuale. Questa cosa però, ragazzi, secondo me va vista più in là, perché dovesse replicare l'atteggiamento precedente, in pratica ha fatto una roba del genere, si lo so, dici, perché va ad essere una struttura ribassista se approvano l'ETF? Perché le considerazioni che adesso faremo, ragazzi, tra poco, sono le stesse che valgono per Bitcoin, dovremmo intanto vedere se effettivamente questo ETF di Ethereum avrà successo, cioè se arrivano i flussi di acquisto, io credo di sì, altrimenti BlackRock non farebbe una cosa del genere, però potrebbe comportarsi un po' simile a quello che ha fatto Bitcoin quando è stato approvato il suo ATF. Andiamo a fare un po' i calcoli. Allora, Bitcoin, approvazione dell'ETF che è avvenuto, che cosa è successo e quanti giorni è sceso? Per la questione Grayscale, ma anche in questo caso c'è la questione Grayscale, ragazzi, e quindi andatela a valutare. In pratica abbiamo avuto, dai prezzi più o meno stabili fino ai prezzi di questa fase, un meno 20% dopo l'approvazione che è durato un bel po' di giorni, perché l'approvazione è avvenuta, la negoziazione è avvenuta all'11 di gennaio e per 12 giorni siamo andati down con un meno 20%. Ora, considerando anche la questione che Ethereum è essenzialmente più volatile di Bitcoin e che dovesse replicarsi questo stesso identico discorso, noi dovremmo attendere la negoziazione che avverrebbe intorno a giugno, ipotizzando giugno in questo momento, aspettare una dodicina di giorni, veder scendere dal giorno della negoziazione, che ancora non sappiamo perché appunto ci vuole un po' di tempo, di almeno il 20%, una roba del genere. Questo significherebbe che potrebbe magari pompare un po' nei prossimi giorni e poi fare un down fino addirittura a metà di giugno, questa cosa non è neanche strana a livello ciclico ragazzi, questo motivo per il quale secondo me in questo momento c'è un po' paura ancora sulla questione Ethereum, perché in effetti non si sa quanto impatto avranno la produzione per esempio degli ETF, quelli di Grayscale, quanto impatto avranno se anche loro venderanno, se si sposteranno come hanno fatto su quello di Bitcoin, secondo me un po' del 20% avvenuto nelle scorse settimane, magari sono un po' più stabili in questo momento i Tori rispetto diciamo agli Orsi. Vediamo un po' come proseguirà nel corso di questi giorni, però essenzialmente io non farò operazioni in questo caso, ripeto, tutto si giocherà secondo me tra oggi e domani, una debolezza tra oggi e domani secondo me farà perdurare un po' questa fase, anche perché c'è questa candela che vi ripeto a livello tecnico richiama un rientro tranquillamente intorno a questa zona dei 3.000-3.400 dollari. Poi ovviamente una volta che sarà negoziato anche l'ETF di Ethereum cambieranno tutte le questioni per quanto riguarda il medio periodo, qui stiamo parlando di breve, però il breve in questo contesto è importante rispetto a tutti gli altri perché un riposizionamento corretto e logico su Ethereum è giusto che avvenga ragazzi, però è anche giusto che avvenga quando in realtà noi abbiamo un dato che ci porta a dire ok Ethereum sta recuperando su Bitcoin, adesso sta invertendo un trend che dura da due anni e mezzo, è giusto fare questo change e ancora questa cosa non è giusta farla. È vero, magari si potrebbe perdere la parte iniziale di forza e ci può stare assolutamente, però dipende un po' da quello che volete, se volete essere un po' più garantisti, un po' meno rischio su questa operazione è meglio evitare diciamo di anticipare troppo il mercato, se volete invece avere il tentativo, fare il tentativo di prendere diciamo tutta una buona parte anche dell'iniziale ecco di questa inversione dovrete andare a tentativi, ma questo andare a tentativi di solito costicchia tantissimo di stop loss, di operazioni sbagliate, di fatica di stare davanti ai grafici e il gioco a volte non vale la candela, però questa è una scelta personale quindi dovete essere anche un po' voi a scegliere il gusto di questa questione. Io aspetterò ancora un po' anche perché non mi convince questo grafico che vi stavo dicendo, voglio ancora aspettare il breakout di questo canale e soprattutto la chiusura di questa settimana importantissima che chiude fra due giorni e questo ritracciamento non è da poco, dovesse anche continuare addirittura peggiorerebbe in maniera considerevole la struttura di questa candela. Quindi Ethereum sì per quanto riguarda il medio periodo assolutamente ancora una volta se gli ETF avranno successo come quelli di Bitcoin, assisteremo a un super pump, io la vedo così e secondo me sarà così, ma di quanto e di come ne parliamo nel video della prossima settimana. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend!